11 febbraio 2041 poche ore dopo il bombardamento sulle città russe da parte di cina e i dc la città di mosca è stata attaccata 13 milioni di persone hanno rischiato la vita soltanto un gesto di kalimov ha salvato la loro esistenza tale gesto però ha richiesto una conseguenza grave kalimov deviando la bomba di sua spontanea volontà ha colpito la città di tula quindi sono morte persone ovviamente sì però 950 mila contro 13 milioni però la cosa particolare è che la bomba è stata deviata volontariamente quindi kalimov è l'omicida di 950 mila russi un po come il paradosso del treno immaginate questa situazione siete proprietari di uno scambio per treni potete cambiare le corsie ai treni il treno sopraggiunge un incrocio nella corsia predestinata ci sono 5 persone legate che non si possono slegare nell'altra corsia c'è una persona slegata se lascerete tutto com'è moriranno 5 persone se muoverete la leva il treno cambierà direzione uccidendo solo una persona al che voi sareste tentati di dire vabbè facile attivo la leva e risalvo 4 persone sì ma tirando la leva de facto condannereste una persona che in teoria non doveva morire a morire quindi sareste comunque degli omicidi sareste comunque dei killer per quella persona e con questa intro molto strana benvenuti al secondo episodio di futuro alternativo del mondo dietro le quinte siamo qui oggi per conoscere la storia di un dittatore spietato al pari forse di stalin di hitler e di molti altri nella storia un po meno famosi ma non di sicuro per la loro spietatezza l'11 febbraio 2041 kalimov è in crisi paranoico imprevedibile la sua alleanza sta ormai crollando questa mappa ci aiuterà bene a capire che intendo dato che la russia la potente russia accelerazionista è riuscita da sola a conquistare tutta la finlandia e quasi tutta la norvegia prima dell'intervento idc è riuscita a riprendere parecchi parecchi territori jacuzia siberia kamchaka e soprattutto in cina dove ha addirittura minacciato minacciato di prendere pechino è riuscita a conquistare le isole sakalin del sud e addirittura le kurili che sono qua le isole sakalin del sud sono qua le kurili tutte e addirittura l'isola di okkaido insomma addirittura ha tentato uno sbarco in alaska con i vitruviani che è andato molto molto bene però se da un lato abbiamo una potentissima russia che ha dovuto però attivare anche sconfiggendo la turchia il livello 5 di reclutamento abbiamo d'altro canto una francia arresa una spagna arresa un egitto arreso una rabbia uscita dall'alleanza in una zona balcanica ormai priva di presenza accelerazionista ricordiamo la la valacchia non è più in valacchia la la bulgaria si è arresa la serbia è diventata edisi l'italia in gioco ha stravolto l'equilibrio la bosnia è diventata indipendente il montenegro e l'albania stavano lì per convenienze sono usciti un'alleanza devastata edisi e patto di shanghai se non almeno in in argentina e in bolivia stanno avendo nettamente la meglio ma come siamo arrivati a questo a un dittatore così interessante ma allo stesso tempo imprevedibile a uno stato accelerazionista a una russia che ha attivato il grado 5 di reclutamento che chiedendo a 100 milioni di uomini di combattere bene ragazzi signori e signori vi presento dalle origini al colpo di stato la storia di joan kalimov attuale leader della russia accelerazionista siamo pronti prendete mano a me datemi la vostra mano immaginariamente siate convinti che io sia alla vostra destra tendete la mano e immergiamoci insieme in questo racconto non sarà un video solito magari a chi di voi aspetta soltanto le mappe cambino non piacerà però per chi è appassionato di storia di lore per chi è appassionato comunque di logica dei fatti questo video sarà il più bello che vedrete nel mese che passa e che sarà joan kalimov infatti non è nato così per caso non è spuntato fuori nella guerra civile russa anche perché la sua età comunque ce la kalimov è nato un pochettino più a sud di mosca un pochettino assai diciamo diciamo proprio nella provincia di tagarog una città che adesso vedrete nuccata in una città sul mar nero a poca distanza dall'ucraina come appunto vedete che l'ucraina non c'è più ma si trova comunque qua aspettate che non devo togliere però provincia nessuno perché sennò rischio di fare danno quindi siamo qua quindi nasce il 4 marzo nella repubblica socialista sovietica ucraina il 4 marzo 1983 quindi da cittadino dell'unione sovietica non di certo della russia normale l'infanzia però non la trascorre in modo proprio semplice anzi è l'esatto opposto ogni giorno sia lui che la sua famiglia devono affrontare una quasi assoluta povertà per non parlare del fatto che i kalimov in famiglia erano tanti marito moglie e otto figli sei maschi di cui uno era appunto il piccolo joan e due figlie femmine il padre era il padrone assoluto della casa in pieno stile di quegli anni e ogni membro della famiglia doveva trattarlo appunto al pari o di un generale o comunque di un dittatore all'interno dell'abitazione fin da piccolo quindi questo questo stato di dittatura anche interna lo ha vissuto come fosse proprio la normalità data un appunto una situazione molto precaria in famiglia era costretto a lavorare nei campi per poter guadagnare soldi necessari per poter sostenere in piccola parte la famiglia che come appunto detto era in povertà comunque la città in questione è qua rostov è appunto una città cruciale per la nostra storia dunque andando avanti però arriviamo al momento più critico della storia perché se comunque si stavano iniziando a ristabilire grazie anche al supporto dei vari figli sia maschi che femmine per quanto povero potevano nel 1995 quando kalimov compì 12 anni purtroppo la città natale venne colpita da una malattia infettiva in pochissimo tempo tutti i suoi fratelli e tutte le sue sorelle si ammalarono di questa malattia non riuscendo però a ricevere le cure giuste per poterla curare in tempo l'infezione purtroppo ebbe la meglio e sia loro che i genitori trovarono purtroppo la morte kalimov fu l'unico che non riuscì a morire e forse in corso se l'augurava dovette però assistere a tutte le loro morti senza poter fare qualcosa senza potersi permettere anche la più semplice dell'assistenza medica forse il fato lo aveva salvato non so se conoscete hegel ma si vede che hegel aveva che la storia lo spirito della storia per chi sa aveva dei piani per questo ragazzo però ovviamente immaginate di avere sette fratelli e sorelle ed una coppia di genitori quindi nove familiari e vederli morire tutti diciamo che la vostra salute mentale non essendo peraltro nel 2023 nel 2024 nel 2020 in generale un periodo dove il supporto psicologico è sicuramente maggiore la salute mentale di kalimov ebbe purtroppo un grande risentimento ma restava comunque un ragazzino non poteva di certo affrontare tutto questo da solo fortunatamente fu preso in custodia da un suo zio che abitava nella sua città e che anche lui era riuscito a sopravvivere a questa grande diciamo piccola pestilenza questa grande piccola pestilenza sorprendentemente kalimov riuscì a continuare la sua vita e a guadagnare abbastanza soldi per iniziare il suo periodo di studi base sottolineo base e all'età di 16 anni quindi neanche giovanissimo per iniziare a studiare una volta concluso poi si appassionò di politica storia ed ingegneria compie però 17 anni una candelina molto molto importante viene reclutato nell'esercito dimostrandosi già da subito talentuoso e riuscendo a salire velocemente di grado ps kalimov ovviamente non è un idiota certo non è un luminare non è un genio come napoleone non è cresciuto in una situazione agiata ma bisogna riconoscergli che senza dubbio è un grandissimo stratega piccolo piccolo spoiler peccato che abbia usato poi questo talento nel modo sbagliato senza esitazione venne mandato in cecenia per combattere la seconda guerra cecena dove poi rimarrà fino al 2001 per essere riconvocato in patria riportato ovviamente da vivo in patria in quella guerra però un'altra esperienza traumatica la vivrà vivrà infatti l'esperienza di veder morire uno dopo l'altro i suoi compagni d'arme essendo appunto una guerra diagnosticando una severa ptsd dopo due anni sul campo di battaglia sapete cos'è ptsd è una cosa un po' particolare diciamo viene chiamato anche disturbo da stress post traumatico quindi niente di che ecco una cosa leggera diciamo l'insieme delle forti sofferenze psicologiche che conseguono a un evento traumatico catastrofico o violento subito anche denominato nevrosi da guerra perché appunto coinvolge principalmente i soldati coinvolti in pesanti combattimenti per esempio c'è anche lo shell shock tra questi specialmente sperimentato nella prima guerra mondiale che colpì molti soldati e poi gli inglesi ci hanno fatto davvero delle belle poesie belle non perché fossero affascinanti ma perché sono davvero toccanti shell shock è una parola che ho imparato a conoscere bene al liceo e anche poi fatto nell'esame di fine anno ma parentesi a parte ed è per questo appunto che questo severo stress traumatico lo deviò così tanto da legarsi per sempre a questa zona del mondo infatti se ricordate nel 2039 tutta la sua rabbia e tutto il suo risentimento verso la cecenia ribelle ricordiamo nelle due guerre cecene tutta questa rabbia venne scagliata contro la cecenia che ricordiamo però non essere una regione indipendente ma essere sotto il gioco della federazione del caucaso ma fu la prima zona del mondo a subire un genocidio architettato da kalimov di certo non per caso e di certo non l'ultima però almeno adesso sapete perché la cecenia è stata attaccata e genocizzata da kalimov appunto a 25 anni divenne un generale il più giovane e iniziò maggiormente a studiare politica a 34 anni decise di fondare un suo partito e di adottare la sua ideologia mai tenuta in considerazione da nessuno l'accelerazionismo ragazzi proprio lui kalimov infatti voleva che la sua russia fosse lo stato più tecnologico e sofisticato al mondo specialmente per l'odio che prova verso l'ex presidente russo boris yeltsin che ha governato fino al 99 per non aver fatto nulla per aiutare i poveri e al contrario essere diventato uno degli oligarchi ma il suo partito accelerazionista non verrà minimamente calcolato se non tra il 2024 e il 2026 ricordiamo tornando indietro nel tempo a quando nel terzo episodio la caduta della russia il quinto episodio spartizioni intercontinentali vi consiglio di vederli scopriamo come la guerra russo-ucraina la terza guerra cecenia e la spartizione della bielorussia sono solo eventi che hanno condizionato la nascita di questo partito di questo di questa come si chiama la crescita di questo partito ecco il popolo diciamo esterrefatto stremato da queste guerre continue e questa crisi interna iniziò a vedere in kalimov una speranza e un futuro luminoso per la russia proprio lui l'uomo della nostra storia kalimov infatti riuscì a reclutare i suoi sostenitori per combattere nella guerra civile e farsi conoscere da tutto il mondo e rimando all'episodio 3 che vi consiglio di guardare subito dopo questa una volta terminata la guerra il primo ottobre 2026 nasceva la russia accelerazionista a quasi a poco più anzi di un centenario dalla nascita dell'unione sovietica da parte di un altro uomo che aveva guidato una rivoluzione ovviamente sto parlando di lenin da questo momento la russia avrebbe passato un'età dell'oro favolosa un'età dove i poveri potevano potuto finalmente permettersi una vita migliore la vita che kalimov desiderava tanto ma che purtroppo non ha potuto avere avete capito bene in effetti non è proprio un pazzo che è nato per caso così come hitler non era un pazzo cioè diciamo che lui non voleva neanche far quello che ha fatto voleva fare l'artista lo sapete bene ed era anche piuttosto bravo vi dico la verità mi è capitato di vedere su su in sull'internet dei vari quadri che lui ha fatto non erano malaccio diciamo chi lo ha rifiutato se ne sarà comunque pentito vuoi o non vuoi la russia di kalimov infatti piccolo dato retroscena essendo questa la serie dietro le quinte ha visto il suo pil decollare dai 4 milioni agli attuali 12 quindi una triplicazione del pil in una ventina d'anni è anche vero però che questo pil soprattutto la parte finale è dovuto dai territori occupati quindi il reale pil della russia preguerra è circa sugli 8 milioni la popolazione mano mano aumenta la fiducia per joan kalimov che inizia a sentirsi sempre più come un salvatore di un intero popolo dello stato più grande del mondo un messia che può portare la tecnologia e l'accelerazionismo per distruggere tutte le divergenze tra le potenze mondiali e di aiutare gli stati in via di sviluppo per sempre il suo ego però continua a crescere in continuazione per lui ormai niente e nessuno può fermarlo ricordiamo che dopo questo episodio 3 città importanti non segnate da nuked city perché ancora le bombe non erano chissà quanto potenti minsk e samara erano state distrutte nella terza guerra mondiale ma soprattutto la sua città natale andando avanti con la nostra storia però c'è qualcosa che si intromette perché sì vi ho raccontato tanto ma non posso non dire che kalimov pensava che le etnie e le religioni ovviamente erano un problema perché prima o poi fanatici religiosi e minoranze etniche si sarebbero potute ribellare al suo governo diciamo che la paranoia alimenta altra paranoia i disturbi si ricomposero diciamo sia passati che presenti e lo portarono a una sola conclusione le divergenze possono unire come infatti il caso del sudafrica fatto da etnie a migliaia la svizzera fatta da 26 cantoni oppure 50 stati uniti degli stati uniti d'america ma possono anche dividere una nazione come la cina come l'armenia con la turchia insomma ci sono vari esempi e tra le due opzioni kalimov le vede solo come un problema iniziò quindi a proclamare uno stato ateo la religione per lui era una distrazione che poteva rallentare o addirittura fermare il processo tecnologico della russia basato sull'accelerazionismo gran parte della popolazione un buon 50 per cento di ortodossi si lamentò ma kalimov non gli diede molto retta e pensò che le sue scelte erano perfette per i russi anzi più che per i russi per la russia la sua soluzione al problema per l'etnia invece dal 2027 al 2030 vennero creati e testati alcuni prototipi di intelligenza artificiale dedicate a scopi militari avete capito bene sì questo progetto venne chiamato vitruvian 0.1 il suo obiettivo sarebbe stato quello di sostituire gli umani in guerra per evitare di avere morti appunto a causa dei conflitti presenti e futuri quindi di base possiamo dirlo adesso finalmente dopo 36 episodi i vitruviani furono costruiti per portare del bene anche se non sembrerebbe fu purtroppo la pazzia del dittatore russo che li rese un'arma di distruzione di massa la versione di vitruvian 1.0 definitiva nacque nel 2035 dove venne utilizzata in dei robot bipedi ovvero che si reggevano già su due gambe il progetto vitruvian si concluse con successo durante la terza guerra mondiale che stiamo analizzando dal 24 al 29 aprile 2039 con il genocidio del 94 per cento delle popolazioni caucasiche piccola nota post scriptum le etnie non sono state sterminate del tutto ma gran parte dei sopravvissuti armeni azzeri ma anche georgiani si sono salvati soltanto perché sono riusciti o a scappare o essere residenti di altri stati principalmente nel vicino iran che infatti confina e ha permesso nel tempo asilo almeno politico e stazionario a queste persone kalimov vedeva le etnie diverse nel suo stato solo come dei piccoli insetti infestanti da eliminare per evitare qualsiasi tipo di problema o contaminazione una soluzione una soluzione finale oserei dire non metterò il governo nazista alla germania per evitare di stravolgere troppo la ma la mappa ma ci siamo già capiti su cosa intendo ecco diciamo che l'ispirazione di quest'idea è nota giungiamo un po i nostri tempi alla terza guerra mondiale kalimov non sopportava l'idea di non essere supportato infatti ogni competitor politico è scomparso da quando lui è salito al potere appunto come ogni dittatore la prima cosa che si fa è allontanare gli oppositori il ruslanium invece che cos'è che ogni tanto l'avete sentito nominare è un metallo che venne scoperto il 19 gennaio 2027 il laboratorio non è radioattivo ma è un ottimo conduttore e mantiene molto bene l'energia verrà utilizzato per creare una nuova generazione di led e quindi scopo benevolo ma giustamente a partire dal 2039 si capì che poteva essere utilizzato nella sua forma liquida come un potenziatore un potenziamento un upgrade per le bombe a idrogeno per rendere la reazione più potente venne testata la prima bomba a idrogeno h rl ovvero h come idrogeno rl come ruslanium su una città cinese come yinchuan uccidendo milioni di persone adesso kalimov che ha 58 anni è al limite della sua sanità mentale immaginando addirittura di bombardare il mondo per ricostruirlo lui stesso sotto l'accelerazionismo fregandosi altamente del costo di vite umane che potrebbe portarsi dietro le spalle nessun russo deve passare ciò che ha passato lui lui vuole portare la tecnologia per salvare l'umanità cosa possiamo dire allora per concludere questa storia come possiamo giudicare quest'uomo intanto mi aspetto un vostro parere nei commenti dopo questo video con un parere su cosa ne pensate di johan kalimov la questione dal mio punto di vista è più complicata del previsto e anche molto soggettiva per questo accetto consigli kalimov è senza dubbio un personaggio particolare un misto tra un uomo di buon cuore che vuole salvare il suo paese e farlo progredire e un mostro senza pietà che è disposto a uccidere milioni di persone anche per errore come è stato nel caso della svezia senza badare troppo al fatto compiuto quindi voi decidete cosa pensare di lui chi lo sosterrà chi lo odierà io leggerò tutti i vostri commenti insomma la ricchezza del suo popolo per la sfortuna degli altri ormai non è più così tutto sembra stia per crollare sembra che il suo posto non sia più qui e infatti oggi 12 marzo 2041 senza che faccio cambi vabbè ma questi cambi non significano molto riportiamo questo numero un po a caso siamo al 12 marzo 2041 dopo che tula è stata bombizzata da johan kalimov leader e dittatore della russia come siamo arrivati fin qui beh adesso lo sapete come ha fatto quest'uomo ad arrivare dov'è ora lo sapete credo che il video possa finire qua a proposito se vi abbiamo regalato questo speciale episodio perché per me è molto speciale dietro le quinte è perché la guerra sta inesorabilmente giungendo alla fine però tranquilli non sarà un finale noioso come vi aspettereste ci sarà ancora qualcosa per cui sorprendersi ecco anche perché ricordiamo la russia a 100 milioni di uomini che adesso in realtà sono una novantina ma dettagli quindi preparatevi perché il gran finale è annunciato e io so il giorno in cui questa serie finirà è un giorno molto raro il giorno più raro della storia potremmo dire quindi credo di avervi dato un po troppi spoiler vi lascio un po maturare adesso ringrazio per quest'idea ampiamente le due persone che collaborano con me pricks per aver fatto la copertina e aver steso il testo di questo episodio meglio la base di questo testo ieri notte letteralmente meno di 12 ore fa anzi poco più per voi che sono le due e dark girashi che prima di andare stamattina a scuola lo ha redatto ad hoc alla perfezione oserei dire apposta per voi io credo che senza questi due ragazzi non avremmo questa serie o meglio avremmo qualche scenario alternativo avremmo comunque una serie futuro del mondo ma non avremmo un'attenzione così meticolosa ai dettagli e un sistema così ben organizzato quindi sono davvero grato del loro supporto e spero di riceverlo ancora per molto comunque per oggi ci salutiamo questa è la storia di joan kalimov fatemi sapere che ne pensate piuttosto piuttosto qua sotto nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina per seguire le novità lasciate tanti tantissimi mi piace passate dal server discord dal canale twitch e dai canali di questi due ragazzi che sono in descrizione detto ciò anche per oggi vi ho davvero detto tutto noi ci vediamo con un prossimo video Grazie 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 Grazie